Notte di violenza nell'area della Fincantieri ad Ancona. Intorno alle ore 22, quattro operai di una ditta esterna sono venuti alle mani durante il turno di lavoro. Erano a bordo di una nave in costruzione quando è scoppiata la rissa per motivi ancora al vaglio degli inquirenti. Le persone coinvolte, tutte di origine straniera, di età compresa tra i 20 e i 40 anni, hanno iniziato a prendersi a pugni. Poi la lite è degenerata e sono partiti colpi di forbici e martelli. Tre di loro sono finiti all'ospedale di Torrette, di cui uno in gravi condizioni. Si tratta di un ragazzo somolo di circa 30 anni che avrebbe riportato ferite profonde al costato e un trauma cranico. Il quarto operaio, ferito in modo più lieve, è stato medicato sul posto. Nel cantiere sono intervenuti il 118 e le ambulanze della Croce Rossa e Croce Gialla. Dopo le prime cure, l'uomo è stato subito interrogato dalla polizia che ora indaga sulle ragioni che hanno scatenato il caos. All'origine del diverbio potrebbero esserci motivi di lavoro, ma si tratta solo di una prima ipotesi. Ora, gli investigatori continueranno ad ascoltare sia gli operai che i testimoni per ricostruire l'origine dei fatti.